Gli inglesi consideravano l'americano un dialetto, considerano ancora, un dialetto sbagliato dell'inglese. Ovviamente è anche vero, se non fosse altro come gli americani si sforzano spesso di dire che una parlata americana, che gli inglesi chiamano Yankee o Yank, spesso in britannico, che vuol dire, il romanesco si direbbe Burino, che è identica, la stessa espressione, cioè una parlata di una persona poco sofisticata, in realtà rappresenta l'inglese prima del contatto definitivo con il francese ottocentesco, cioè quando l'inglese comincia a cambiare la sua dizione per scimmiottare il francese.